Avereva una brutta attaccatura dei corsi, non hai perso niente, dovevo spaccargli il muso con lo stronzo, di grazia che non te l'abbia staccato lui, impossibile, sai Christmas, io non ti capisco, perché finché stai con una donna un paio d'ore è tutto forte, eccitante, bello, ma dopo un po', pensaci bene, che ci fai per il resto della giornata? Guarda che ti ha fatto un favore, così adesso hai più tempo per piangerti addosso. So è un gran bastardo. Olli, ti dai, eh?